Ciao bambini, io sono il signor Tocco, sono uno dei signori Cinque Sensi, amici di Rudi. Attraverso le mie grandi mani io posso toccare tutte le cose e riconosco cosa sono grazie al senso del tatto. Ciao bambini, io sono la signora Pupilla, amica di Rudi. Attraverso i miei grandi occhi posso vedere tutte le cose e riconoscerle grazie al senso della vista. Ciao bambini, io sono il signor Nasone, uno dei signori Cinque Sensi e attraverso il mio grosso naso e quindi attraverso l'olfatto posso riconoscere tutti gli odori della terra. Ciao bambini, gnam gnam, io sono il signor Gustavo e attraverso la mia bocca e quindi in senso del gusto posso riconoscere tutti i gusti buoni del mondo. Gnam gnam, ciao bambini. Ciao bambini, io sono il signor Sento e attraverso le mie grandi orecchie e quindi attraverso il senso dell'udito. Io sento tutti i suoni del mondo come questi suoni e canti degli uccelli. Ciao bambini. Ciao bambini.